Chi non legge un pirla, questo è un invito alla lettura del libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin intitolato Oppenheimer, trionfo e caduta dell'inventore della bomba atomica. Prologo Maledizione, perché mi capita di amare questo paese? Robert Oppenheimer Princeton, New Jersey, 25 febbraio 1967 Nonostante il tempo minaccioso e il grande freddo che avvolgeva il nord-est, 600 persone premi Nobel, uomini politici, scienziati, poeti, romanzieri, compositori, amici e colleghi di tutti i periodi della sua esistenza si riunirono per ricordare la vita di J. Robert Oppenheimer e piangere la sua morte. Alcuni l'avevano conosciuto come il loro gentile maestro e lo chiamavano affettuosamente Oppi Altri lo conoscevano come un grande fisico, come l'uomo che nel 1945 era diventato il padre della bomba atomica un eroe nazionale e il modello dello scienziato come servitore pubblico Tutti ricordavano con grande amarezza come, appena nove anni più tardi, la nuova amministrazione repubblicana del presidente Dwight D. Eisenhower l'avesse dichiarato un pericolo per la sicurezza facendo di Oppenheimer la più importante vittima della crociata anticomunista negli Stati Uniti E tutti erano presi dalla tristezza nel ricordare un brillante uomo la cui straordinaria esistenza era stata segnata tanto dal trionfo quanto dalla tragedia Tra i Nobel presenti vi erano fisici di fama mondiale come Isidore Rabi, Eugene Wigner, Julian Schwinger, Sung Dao Lee ed Edwin McMillan La figlia di Albert Einstein, Margot, era lì per onorare l'uomo che era stato direttore di suo padre all'Institute for Advanced Study di Princeton C'era anche Robert Serber, uno studente di Oppenheimer negli anni 30 a Berkeley e poi fedele amico e veterano allo Salamis Così come il grande fisico della Cornell University, Hans Bethe il premio Nobel che aveva rivelato come funzionava il sole Irva Denham Green, un vicino di casa nella tranquilla isola caraibica di St. John dove Oppenheimer si era costruito una villetta nei pressi della spiaggia che gli era servita da rifugio dopo la sua umiliazione pubblica del 1954 sedeva gomito a gomito con i potenti notabili della politica estera americana L'avvocato e consigliere presidenziale John McCloy il direttore militare del progetto Manhattan generale Leslie R. Groves il sottosegretario della Marina Militare Paul Nitz lo storico e premio Pulitzer Arthur Schlesinger Jr il senatore del New Jersey Clifford Case A rappresentare la Casa Bianca il presidente Lyndon B. Johnson aveva mandato il suo consigliere scientifico Donald F. Horning un veterano di Los Alamos che era stato con Oppenheimer al Trinity il testo è il 16 luglio del 1945 della prima bomba atomica inframmezzati agli scienziati e ai potenti di Washington vi erano personaggi della letteratura e della cultura il poeta Stephen Spender, il romanziere John O'Hara il compositore Nicholas Nabokov e Georg Balanchin direttore del New York City Ballet la vedova di Robert Catherine Kitty Pweening Oppenheimer sedeva con Alexander Hall dell'Università di Princeton in prima fila e per questo molti ricordano la cerimonia come un funerale tranquillo e dolce amaro accanto a lei sedeva la figlia Tony di 22 anni il figlio Peter di 25 il fratello più giovane di Robert, Franco Oppenheimer la cui carriera di fisico era stata distrutta durante l'uragano del maccartismo era seduto vicino a Peter brani dei Requiem Canticles di Igor Stravinsky una composizione che Robert Oppenheimer aveva ascoltato per la prima volta nella sua totalità e molto apprezzato l'autunno precedente riempirono l'uditorio quindi Hans Bethe che aveva frequentato Oppenheimer per tre decenni recitò il primo dei tre elogi inizio della citazione fece molto di più di qualsiasi uomo disse Bethe per far diventare grande la fisica americana era un leader ma non era autoritario non ordinava mai quello che si doveva fare faceva emergere quello che di meglio c'era in ciascuno di noi come un buon padrone di casa fa con i suoi ospiti fine della citazione a Los Alamos dove aveva diretto migliaia di uomini in una ipotetica gara con la Germania per la costruzione della bomba atomica Oppenheimer aveva trasformato un antico altopiano in un laboratorio e trasformato gruppi diversi di scienziati in una squadra efficiente Bethe e altri veterani di Los Alamos sapevano che senza Oppenheimer il primordiale aggeggio che avevano costruito nel Nuovo Messico non sarebbe mai stato finito in tempo per essere usato in guerra Henry de Wolf Smith un fisico e collega a Princeton tenne il secondo elogio nel 1954 Smith era stato l'unico dei cinque membri della commissione per l'energia atomica AEC che aveva votato a favore della restituzione a Oppenheimer del nulla osta alla sicurezza avendo partecipato alle odiose audizioni sulla sicurezza che Oppenheimer aveva dovuto sopportare Smith aveva capito perfettamente la farsa che era stata organizzata inizio di una citazione Un errore come questo non avrebbe mai avuto motivo di esistere Una macchia come questa non sarà mai cancellata dalla nostra storia Rimpiangiamo che il suo grande impegno per questo paese sia stato ripagato in modo così abietto Fine della citazione Alla fine toccò a George Kennan vecchio diplomatico e ambasciatore il padre del concetto di contenimento nella politica post bellica americana contro l'Unione Sovietica e per un lungo periodo amico e collega di Oppenheimer all'Institute for Advanced Study Nessuno più di Oppenheimer aveva stimolato l'attenzione di Kennan sui rischi enormi dell'era nucleare Nessuno meglio di lui aveva difeso il suo lavoro e gli aveva offerto un rifugio all'Istituto quando a Washington il dissenso di Kennan nei confronti delle politiche militariste americane della guerra fredda l'aveva trasformato in un uomo qualunque Su nessuno disse Kennan si sono mai posati con maggior crudeltà i dilemmi che sono nati con la recente conquista da parte degli esseri umani di una potenza al di là del naturale e al di là di tutte le dimensioni della loro forza morale Nessuno può vedere più chiaramente i pericoli che potranno incombere sugli esseri umani a causa di questa crescente disparità Questa preoccupazione non dovrà allentare la nostra fede nel valore della ricerca della verità in tutte le sue forme scientifiche e umane Ma non ci sarà nessuno che con minor passione desidererà di essere utile nel preannunciare le catastrofi alle quali lo sviluppo delle armi di distruzione di massa minacciano di portarci Lui aveva in mente tutto questo nell'interesse del genere umano Ma lui era un vero americano ed è proprio attraverso la comunità nazionale alla quale apparteneva che vedeva la grande possibilità di realizzare queste aspirazioni Nei giorni bui dei primi anni 50 quando nubi oscure che arrivavano da molte direzioni si ammassarono sopra di lui e quando a causa della sua posizione si trovò al centro delle controversie io cercai di attirare la sua attenzione sul fatto che sarebbe stato ben accolto in centinaia di centri accademici esteri e gli chiesi perché non aveva pensato di andare a stabilirsi lontano da questo paese La sua risposta data con le lacrime agli occhi fu maledizione perché mi capita di amare questo paese Fine della citazione Robert Oppenheimer è stato un enigma un fisico teorico che mostrò qualità carismatiche da grande leader un esteta che coltivava ambiguità nei decenni che seguirono alla sua morte la sua vita fu ammantata di controversie miti e misteri per gli scienziati come Hideki Yukawa il primo giapponese premio nobella per la fisica Oppenheimer era il simbolo della tragedia del moderno scienziato nucleare per i liberali divenne il più importante martire della caccia alle streghe durante il maccartismo il risultato ottenuto da una destra priva di scrupoli per i suoi nemici politici era vicino ai comunisti e un bugiardo accertato in realtà era un uomo eccezionale pieno di talento e di complessità insieme brillante e ingenuo appassionato difensore della giustizia sociale e instancabile consigliere governativo anche se l'impegno a fermare la sfrenata corsa agli armamenti nucleari gli creò potenti nemici nella burocrazia come disse il suo amico Rabi oltre a essere davvero saggio era anche davvero ingenuo bene questo è tutto spero che questo estratto vi abbia incuriosito fatemi sapere se leggerete il libro o se avete libri da suggerirmi ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti